Ciao ragazzi, benvenuti, grazie per la fiducia che continuate a dimostrarmi, grazie per aver acquistato o grazie anche a chi acquisterà questo libro, che non è altro che il naturale, continuo della mia raccolta di 180 trascrizioni di bass di John, canzoni dei Queen e non, quindi quasi tutta la sua discografia, le sue collaborazioni, ovviamente la gran parte del suo lavoro è stata quella con i Queen, che potete trovare a questo link o sul mio sito www.igorsalli.com Dopo aver pubblicato questa raccolta che nel mio piccolo ha fatto il giro del mondo, non me lo aspettavo, dopo aver ricevuto tantissimi apprezzamenti anche da musicisti veramente importanti, vi faccio solo un nome, Alfonso Johnson, che è stato bassista di Weather Report prima di Giacomo e altri, insomma, anche a livello italiano e internazionale. Quindi, sono felicissimo di questo lavoro che ho fatto, io ne ho fatti altri, ho fatto altri metodi didattici, ho fatto altre raccolte, soprattutto, chi fosse interessato, ho fatto la raccolta di trascrizioni di Giacomo, sono 60 brani e poi ho fatto altri metodi didattici, un corso di armonia, eccetera, eccetera. Trovate tutto, tanto scritto nella prefazione o nella biografia mia, con tutti i link. Perché fare questo secondo libro, diciamo, su John? Io ho spesso ricevuto, sia anni fa quando usavo per lo più Precision e suonavo anche dei brani di Queen, sia appunto dopo aver pubblicato questa raccolta, ho ricevuto molte, molte, molte domande, molti messaggi, nei quali mi veniva chiesto un po' di tutto, diciamo, un po' di tutto riguardo a John, un po' di tutto riguardo al mio sound, che ha detta vostra, ha detta loro, è molto simile a quello di John, io premetto che non ho mai cercato di fare la copia, né sua, né di Giacomo, né di altri bassisti che mi piacciono, semplicemente, prima, da ragazzo, suonando tantissimo le canzoni di Queen, comunque essendo appassionato di John, e logicamente poi è quasi istintivo cercare anche il sound, però non ho mai, ecco, voluto copiare, andare a cercare proprio la misura delle corde piuttosto che quali pick up o quant'altro. Io ho preso un Fender precise, anzi due, e semplicemente entro, non uso amplificatori, ma questo lo vedremo prossimamente. Altre domande che mi sono state fatte, soprattutto alcuni brani, se potevo fare dei tutorial, oppure spiegare magari il mio approccio su delle parti un po' più complicate, e la parte più bella sono state le richieste di, mi hanno chiesto, insomma, di parlare delle sue composizioni. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto, forse è stato, diciamo, lo stimolo maggiore che mi ha spinto a fare questo secondo libro, perché diciamo che la parte forse più sottovalutata, ancora più della sua tecnica bassistica, del suo ruolo da bassista, forse sono state proprio le sue composizioni, che non ci scordiamo, pur essendo stato il, diciamo, il membro dei Queen meno prolifico a livello di numero di brani scritti, composti, ma non ci scordiamo che quasi tutti i suoi brani sono diventati dei successi, tranne rare eccezioni, sono tutti pezzi che, ragazzi, chi è che non conosce Want to Break Free, piuttosto che è andato OneBustDust che è, penso, sia il giro di basso più conosciuto a livello proprio storico di sempre. Quindi, ecco, vorrei fare un viaggio, chiamiamolo così, un piccolo viaggio alla scoperta del bassista e soprattutto del musicista, quindi a 360 gradi, più sottovalutata, forse, della storia della musica leggera. Ecco, proviamo a vederla così, farò del mio meglio per rendere tutto più interessante possibile. Sarà un libro che varierà molto di argomenti, quindi parleremo sia di, faccio un piccolo riassunto, volevo fare parte della biografia, della discografia, volevo porre molta attenzione sulla strumentazione, tutto quello che ha usato, tour per tour, tutti i bassi che ha avuto, insomma tutto quello che so, che conosco. Il sound, i vari sound che ha avuto durante la sua carriera, le sue tecniche principali, quindi, ad esempio, il suo fingerstyle, che è stata la tecnica più utilizzata in assoluto, ma non solo, ha usato molto il plettro, quindi andiamo a esaminare quei brani dove cerchiamo di capire perché preferiva l'utilizzo del plettro, il suo suonare con i pollici, o il palm muting proprio, ma anche, ad esempio, quelle composizioni o quei brani dove ha suonato il basso fretless, 39 ad esempio, My Melancholy Blues, e addirittura un aspetto che molti non conoscono è che John ha suonato anche il contrabbasso, ad esempio nell'intro di Death on two legs, 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 c'è un contrabbasso suonato proprio con l'arco, molto bello, tutto questo si può capire perché con gli anni mi sono messo da parte anche le sue tracce separate, quindi la traccia proprio di basso, contrabbasso, eccetera, per sentire proprio in modo perfetto, pulito, di molti, molti brani, quello che faceva, quindi anche dovevo sentire il suono e si capisce veramente molte cose. Poi, appunto, in un capitolo dove si parlerà proprio delle sue composizioni, del suo essere un polistrumentista, ricordiamoci che John nasce come chitarrista e ha suonato la chitarra in molti dischi The Queen, anche in alcuni live, suonava il pianoforte, i tastieri, i sintetizzatori, la batteria, anche se lui in un'intervista disse che se la cavava appena. Comunque era un grande polistrumentista, un grande compositore, un grande autore perché tutti i testi delle sue composizioni erano proprio suoi, 100%. Dopodiché andremo comunque ad analizzare, sia dal punto di vista armonico, per capire proprio come ragionava musicalmente, armonicamente e melodicamente, e poi le analisi delle sue linee di basso, da quelle più storiche. Cercheremo di capire come mai funzionavano così bene. Passando poi suoneremo proprio i suoi brani con gli originali senza basso, quindi ci divertiremo ancora di più, proveremo a inventare magari dei giri di basso nello stile suo, parleremo dei suoi cliché, quindi cose che ha ripetuto durante la carriera, l'importanza dell'incastro che aveva con Roger Telo, con basso e batteria. Insomma, parleremo un po' di tutto, le sue influenze, musicali e anche magari le analisi di quei pochi soli che ha fatto, ma che sono rimasti diciamo molto nel nostro orecchio, basta pensare a Liar o Breakthrough, piuttosto che, oh Dio, me ne viene in mente altri, però insomma, vedremo tutto più avanti. Quindi, io vi ringrazio ancora, troverete tutto nel PDF, poi vedrò se fare anche il cartaceo, dipende quante richieste avrò, comunque ogni video avrà il suo link per scaricare tutto, ovviamente, compreso nel prezzo del libro, i PDF con esercizi, i PDF con ogni capitolo, insomma, sarà abbastanza pienotto, diciamo così. Per qualsiasi domanda, critica, perplessità, dubbio, chiarimento, io sono sempre, grossomodo, ora fortunatamente siamo a giugno 2021, riparto anche con la musica live, ma sono sempre disponibile, non parlo bene inglese, però dai, in un modo o nell'altro ci cercheremo di capirci, sono sempre a vostra disposizione, quindi grazie ancora, ci vediamo poi al primo video vero e proprio del libro.